Allacciate le cinture! Da Walt Disney Home Video, Bianca e Bernie, gli adorabili protagonisti di tante avventure, sono tornati! Siamo per decollare! E questa volta, i più piccoli eroi Disney partono per la loro impresa più grande. Vado l'altro! Sono diretti verso un mondo eccitante, pieno di meraviglie, in Bianca e Bernie nella terra dei canguri. Ambientato nello splendido introterra australiano, Bianca e Bernie nella terra dei canguri, è la storia commovente dell'incredibile amicizia tra un bambino di nome Cody e una magnifica aquila. Mino a quando un malvagio bracconiere minaccia di separarli. Però, unendo le forze con il loro nuovo amico Jake, Bianca e Bernie corrono contro il tempo per salvare Cody e la sua aquila. È l'avventura Disney più eccitante che tu abbia mai visto. Un film sorprendente che ti farà volare con la fantasia, con tutti i momenti divertenti, le tenere amicizie e l'incredibile emozione di questo spettacolare salvataggio. Un film che ti porterà oltre i confini dell'immaginazione. Il più nuovo film Disney è già un classico, Bianca e Bernie nella terra dei canguri.